che fai con il telefono sto giocando al videogioco del segno ma lascia stare pensano peserie noi noi abbiamo un'altra idea, non c'è una bella partita la storia, chi perde paga un uzzetto un uzzetto un uzzetto prezzo 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 Maledetta al telefono Maledetta Maledetta al telefono Eh beh lascia le cose a metà qua Eh no a Bari non sono io quel che lascia le cose a metà Ah si? Io della politica ho un'altra idea Prezzo 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 Ma di tutte le due ce l'ho? Eh chi lascia le cose a metà? Ah allora non dire no Ci parte il motri C'è un pizzeria? Non ci parte Vietà No no Tu! Posta vietà C'è un pizzeria? Ah no 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 Grazie a tutti.